La 66esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Danetia presenta nella sezione orizzonti Villa Lobos. Sono presenta in mia sala e nel supervisore al suono Frank Halvig. La direttrice della fotografia Katia Sander. L'autrice del montaggio Karin Nobarra. L'interprete Riccardo Villalobos. Il professore, direttore della fotografia Eri. L'interprete Riccardo Villalobos. L'interprete Riccardo. 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 Grazie. 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 Chi? No, ha detto che non suona. Prima di archivista... Non suona. Grazie. 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 Adesso anche mi metterò la foto su un messenger. Dopo un anno. Grazie. Grazie.